Al regista Edoardo Ferraro abbiamo chiesto l'importanza di un tema attuale come quello dei vaccini riportato al periodo del primo dopoguerra nell'entroterra marchigiano e delle sensazioni che ha provato lui, un maceratese, nel girare il cortometraggio proprio nelle Marche. Particolarmente attuale, sì, diciamo che il tema di fondo del nostro racconto è il tema della fiducia, insomma, dell'ignoranza e la paura che l'ignoranza porta, ma soprattutto della fiducia. Questa è la storia di un medico condotto di fine anni 20, ambientata tutta in una notte, una notte abbastanza rocambolesca in cui deve salvare la vita un ragazzo che ha perso molto sangue e deve convincere dei paesani a fare una trasfusione, a donare, a vendere anzi il loro sangue. Da lì, diciamo, c'è questa dinamica tra il medico e la paura, l'ignoranza degli abitanti e la corsa contro il tempo per convincerli, quindi questo è il tema di fondo. Per me è molto bello portare qua quello che ho imparato altrove. È complicato, sicuramente qua si trovano dei paesaggi bellissimi che non si troverebbero altrove. Insomma, ci diamo molto da fare con la Phil Commission anche, che ormai conosco bene da anni, per far sì che si possa portare il cinema qua. Non solo io, ma anche tanti altri ragazzi che come me hanno studiato a Roma o altrove. È complicato, però il fatto che sia complicato lo rende ancora più bello e soddisfacente da tanti punti di vista. Mi auguro che venga visto da tante persone, mi auguro che venga bene innanzitutto e che sia una storia, al di là dell'attualità dei temi, al di là dei temi in sé appunto, spero che sia una storia interessante e avvincente da vedere. Passiamo ora al protagonista del film, Sergio Albelli, attore teatrale e cinematografico, che ritroviamo nei film di Paolo Virzi, di Mario Martone, il giovane favoloso, e di Spike Lee, miracolo a Sant'Anna, che interpreta appunto la parte del medico condotto per scoprire qual è il senso del ruolo del medico. Il senso del ruolo del medico condotto è un senso abbastanza poco esplorato, trovo, ed è interessante vedere come agli inizi del secolo il medico condotto rappresentasse un coacervo di funzioni, anche di aspettative, e fosse molto diverso a seconda del luogo in cui operava. Per cui c'erano situazioni remote, remote dalla grande città, che era una provincia profonda, dimenticata o comunque lasciata a se stessa, dove, che aveva studiato, che aveva anche frequentato situazioni, diciamo, avanzate per l'epoca, si trovava invece a operare in condizioni disperatamente povere, no? Ed è interessante vedere come poteva e doveva sorbarcarsi tutta questa responsabilità, che andava dalla veterinaria, da essere veterinario, a essere psicologo, ad ascoltare, soprattutto ad ascoltare. e quindi è molto bello, molto interessante da esplorare come ruolo.